Il maltempo e il mare agitato anche oggi hanno impedito la ripresa delle ricerche di Matteo Cavarocchi, il farmacista 28enne di Pescara, che era impegnato insieme ad un amico in attività di pesca subacquea in apnea in prossimità della piattaforma Squalo, disperso da mercoledì mattina a largo della costa Teramana, tra Roseto degli Abruzzi e Pineto. Intanto sono arrivate le attrezzature necessarie per le attività di ricerca. Da Milano è arrivato il ROV, robot sottomarino filo guidato adoperato nell'industria marittima, mezzo altamente manovrabile, pilotato da operatori specializzati a bordo di unità navali e piattaforme. Dalla Calabria invece un sistema sonoro per permettere di rilevare ogni particolare. Attrezzature in grado di eseguire uno scandaglio tridimensionale dei fondali, profondi in quella zona oltre 70 metri. I mezzi saranno calati nei pressi del pilone ovest della piattaforma Squalo, dove è stata ritrovata la preda, una ricciola infiocinata intrappolata al pilone con il cordino del fucile usato dal giovane ventottenne e dove si ritiene che possa trovarsi il corpo di Matteo ancora sul fondale. Stando alle previsioni meteorologiche è possibile che le ricerche riprendano domani, nella tarda mattinata o nel pomeriggio.